Parliamo adesso dell'audio in presa diretta con i microfoni lavalier, infatti anche i microfoni lavalier che possono essere ovviamente anche chiamati pulci, chiamati collarini, insomma sono un tipo di microfono che viene utilizzato molto spesso per la presa diretta chiaramente perché dico molto spesso? Dico molto spesso perché la scelta migliore è sempre quella di utilizzare uno shotgun questo perché il microfono lavalier tenderà ad essere un microfono con un suono un po' particolare che non viene utilizzato spesso perché comunque ci dà un suono stretto, innaturale comunque non è il massimo a livello di qualità sonora ed è realismo soprattutto per la scena perché chiaramente non va a cogliere tutti quegli elementi che ci sono invece con un audio come può essere lo shotgun però sono utili per tutta una serie di motivazioni che adesso andiamo a vedere come facilmente intuibile questo è solo un estratto di un videocorso molto più ampio che abbiamo pubblicato sulle nostre piattaforme quindi se vedete che vi manca qualche nozione andate a vedervelo perché sicuramente è molto più ampio e molto più interessante torniamo alla spiegazione sicuramente sono utili nei contesti nel quale c'è molto rumore, ci sono molti suoni indiretti provenienti dalla nostra location quindi sono molto rumorosi, sono molto incasinati ecco sicuramente un microfono lavalier ci aiuta ad escludere questo tipo di rumori di fondo poi può essere utilizzato ovviamente dove non è possibile utilizzare un microfono shotgun quindi per esempio banalmente dei campi lunghissimi dove ci sono due persone che stanno parlando in fondo ad una strada oppure in stile breaking bad in cui abbiamo loro che parlano in queste distese enormi beh sicuramente lì è indispensabile utilizzare un microfono di tipo lavalier e anche sicuramente per tutte quelle interviste che fanno i videomaker in cui appunto sono da soli ci vuole una situazione appunto più veloce, meno architettata, con meno persone sicuramente per loro questo è molto più semplice plug and play ma ne abbiamo già parlato nelle parti precedenti prima di addentrarci in come bisogna microfonare qualcuno con il lavalier e di come si deve andare a microfonare una persona correttamente diciamo un paio di altre cose sugli aspetti negativi o comunque sulle cose da non fare sicuramente un lavalier non deve essere posizionato sotto al mento, troppo vicino a questa parte qui questo perché? perché giustamente andremo a tagliare tutta una serie di frequenze dovute al mento quindi creeremo un'ombra sonora, viene definita così e questo peggiora ulteriormente quella che è la qualità del suono rendendolo ancora più artefazioso ok? e quindi non è l'ideale fare questo tipo di situazione e non dobbiamo neanche metterlo troppo lontano perché questo ridurrà di molto quello che è il suono del nostro microfono e quindi della nostra voce, quindi di colui che sta parlando bene, adesso ragazzi sono passato dietro alla macchina da presa per fare questa simulazione adesso Gianluca andrà a posizionare il microfono come non deve essere posizionato con il bombeppe allora, andiamo a posizionare il lavalier troppo sotto al collo quindi che va a creare quell'ombra acustica parla Beppe, leggi? la poesia è una forma d'arte che crea con la scelta e l'accostamento di parole secondo particolari leggi metriche un componimento fatto di frasi dette versi vedete? così c'è una differenza sostanziale sia anche proprio percepito quindi il microfono ha questa posizione ottimale una volta spiegato come non bisogna mettere un lavalier andiamo a capire come deve essere posizionato un lavalier e qual è la sua posizione vedo molti video online praticamente anche noi volte usiamo questo sistema dove il lavalier viene sempre posizionato sulla destra sulla sinistra di una giacca si fa ma per specifiche esigenze che dopo vedremo di base il lavalier deve essere messo centrale rispetto al nostro corpo rispetto alla nostra cassa toracica quindi qua dove c'è proprio il plesso solare che lo si chiami così che crea quasi una conca di risonanza una conca anche proprio a livello di praticità di essere posizionato il microfono dovrebbe essere messo in questa posizione qui questa è la posizione migliore dove potete mettere il vostro lavalier però ci sono anche delle altre situazioni dove si può mettere in posti diversi adesso lo capiremo perché dico che posizionare il lavalier in posizioni estreme è uno svantaggio? chiaramente il lavalier in questo momento è visibile ok? voi vedete il lavalier dovessimo occultarlo sotto la mia maglia chiaramente ci sarebbero dei sistemi diversi per poterlo fare di cui parleremo dopo quindi giustamente il microfono a volte viene posizionato qui in queste posizioni perché è più facile agganciarlo al bavero di una giacca insomma è più semplice però posizionarlo qui ha anche dei vantaggi dei vantaggi in termini proprio acustici di direzione del suono questo perché? perché se abbiamo due interlocutori che stanno parlando uno di fianco all'altro giustamente loro tenderanno a fare questo e potrete anche credo notarlo dal suono che esce adesso in cuffia in questo momento la mia voce cambia cioè non è più diretta verso il microfono come potrebbe essere in questa posizione qui ma tende a cambiare mano a mano che io mi volto quindi anche lì se avete due interlocutori che parlano girandosi rispettivamente uno verso l'altro potrebbe essere corretto quello di andare a posizionare magari un microfono in questo punto sull'altro soggetto un microfono nell'altra parte quindi nella parte destra in maniera tale che si incroscino gli audio e quindi avrete un audio migliore questo è sicuramente una tecnica importante che è bene comprendere adesso andiamo a vedere praticamente questo concetto quindi Beppe leggerà sempre una poesia e Gianluca sposterà il microfono per farvi capire di cosa stiamo parlando quindi vai pure Beppe la poesia è una forma d'arte che crea con la scelta e l'accostamento di parole secondo particolari leggi metriche un componimento fatto di frasi dette versi questo infatti è uno dei principali errori che vedo fare da tantissimi videomaker ma anche di livello alto nel senso perché giustamente la parte del fonico è sempre una parte che viene lasciata in secondo piano e quindi si commettono degli errori veramente gravi cioè mettere il microfono troppo centrale rispetto all'interlocutore che sta parlando è un errore molto grave perché si vanno a tagliare tutta una serie di frequenze come abbiamo detto e quindi questo crea dei problemi nell'audio la posizione corretta è questa poi ovviamente per esigenze per praticità perché ci si automicrofona va bene c'è anche nel nostro corso vedrete delle parti dove noi abbiamo pinzato direttamente la capsula microfonica rode in questa posizione qua così e quindi è centrale qua sotto ma perché? perché giustamente sono dei corsi e quindi diciamo abbiamo a volte prefitto sacrificare un po' la qualità ma per riuscire a velocizzare e poter girare le cose da soli però se invece state lavorando per un cliente quindi per un lavoro in cui magari l'audio deve essere proiettato al cinema ad insomma un discorso importante è bene mettere i microfoni nella posizione corretta scendiamo adesso anche un po' nel tecnico una cosa importante che si dovrebbe fare che la segnalo adesso un po' all'inizio di questo discorso e che sarebbe sempre bene come abbiamo detto per il boom utilizzare una ridondanza quindi avere più microfoni che catturano l'audio e non solo uno quindi ipoteticamente voi potreste mettere dovreste mettere due lavalier per cercare di avere due soluzioni mi rendo conto che sia più difficoltoso più dispendioso più evidente anche da vedere in scena però se ne avete la possibilità o state facendo qualcosa di veramente importante di veramente posizionante allora pensate a questa soluzione perché vi può salvare veramente la vita ora parliamo invece di quali sono le competenze e come ci dobbiamo comportare nel momento in cui approcciamo qualcuno per microfonarlo chiaramente noi saremo sia il fonico sia il microfonista nel cinema di base sono separate queste figure ma noi dovremmo fare un po' tutto e quindi è bene capire alcune competenze fondamentali fondamentali innanzitutto partiamo col dire che microfonare qualcuno è un aspetto complicato perché si invade lo spazio personale di qualcuno un conto è appunto parlare con una persona da una distanza avvicinata però quando andiamo a microfonare stiamo invadendo lo spazio personale di qualcuno perché ci troviamo faccia a faccia a 10 centimetri da lui con una persona che non conosciamo quindi innanzitutto è bene qualificarsi dire che siete il fonico che siete l'operatore che siete il microfonista e che lo state microfonando dovete posizionare il microfono su di lui fateglielo capire non arrivate così all'arrembaggio toccandolo facendo perché non si fa quindi vi qualificate dite buongiorno dobbiamo mettere il microfono partiamo io sono il fonico tazio e pecere iniziamo quindi identificate fate un sorriso all'inizio per capire che siete amichevoli e ponetevi come il microfonista e partite con la microfonazione non parlate troppo perché giustamente siete a un centimetro da lui quindi anche il covid e tutto le parlano poi non è anche vero che uno ti parli in faccia quindi cercate di essere più zitti possibili state in silenzio quando siete vicini a lui e soprattutto se dovete microfonarlo magari facendogli mettere il ricevitore dentro la tasca della giacca nei pantaloni avvisatelo e dite di togliere eventuali effetti personali quindi non mettete le mani nella tasca interna della giacca di qualcuno dove magari ha il portafoglio ha il telefono insomma siate comprensivi anche di questo e avvisate su tutto quello che state facendo quindi dopo aver chiesto di poter andare a inserire le mani all'interno della giacca per capire se hanno degli oggetti personali dobbiamo anche comunque sempre far presente dove andremo a toccare il nostro dottore il nostro soggetto e quali manovre andremo a fare è importantissimo questo soprattutto per il sesso opposto quindi che siano uomini che toccano donne o donne che toccano uomini specialmente uomini che toccano donne perché sappiamo che ci possono essere tutta una serie di problematiche quindi annunciate sempre chiedete il permesso quindi posso toccarti qui per mettere il microfono nei pantaloni dietro sì no quindi qualsiasi operazione perché a volte capita anche di dover far spogliare tra virgolette una donna per mettere il microfono nel reggiseno quindi per queste situazioni c'è proprio una prassi particolare ma addirittura se andiamo soltanto a mettergli giustamente anche il microfono pinzaglielo nella tasca dietro dei pantaloni chiaramente bisogna toccare certi punti quindi è fondamentale chiedere prima il permesso e spiegare cosa stiamo facendo soprattutto se si tratta di minori di bambini di ragazzini microfoniamo sempre in presenza di un tutore legale del genitore o un altro membro della troupe facciamo vedere quello che stiamo facendo facciamoci vedere dalle altre persone spieghiamo tranquillizziamo e tuteliamoci perché stiamo mettendo le mani addosso a un'altra persona e quando si mettono le mani addosso a un'altra persona si rischia sempre di essere in un terreno molto scivoloso quindi mi raccomando attenzione su queste cose qua poi ovviamente non dobbiamo obbligatoriamente fare tutto noi ci sono dei passaggi che se vediamo che c'è una persona che è particolarmente a disagio che non vuole farsi toccare da noi possiamo anche teleguidarla noi nelle operazioni quindi appunto una donna immaginiamo io parlo di una donna perché sono del stesso posto però una donna che deve far passare il cavo del jack all'interno della propria giacca della propria camicia insomma del proprio indumento possiamo anche dirgli guarda ti stacco il ricevitore questo il jack fallo passare fallo uscire ma lo dai e noi colleghiamo oppure collega tu prova tu a clippare il tuo microfono dietro alla tua tasca o addirittura nella cintola dei pantaloni altra cosa soprattutto su cui dobbiamo istruire e questo è un po' il punto saliente che riguarda la salvaguardia dei nostri microfoni è quello di cercare di istruire il più possibile su come devono gestire i lavalier perché i lavalier sono molto delicati si rompono facilmente il 90% del danno che può succedere nel tempo un lavalier lo fa chi lo utilizza quindi gli ospiti che noi abbiamo i nostri settori le nostre comparse che lo utilizzano perché ovviamente essendo in mano a loro dipende un po' da quest'ultimi la vita del microfono stesso quindi spiegare che non devono appena finisce l'azione pigliare e tirarselo via spiegare che non devono dare botte sia per la qualità acustica proprio della ripresa ma sia proprio per una questione loro di non prendere andare via appena finite le riprese di rimanere lì perché sennò perdete i lavalier non è già successo mai più di una volta quindi cercate di istruirli il più possibile appena finisce l'azione posate tutto andate lì li togliete voi il microfono perché altrimenti ve lo rompono ed è successo parecchie volte quindi istruite su quello che sarà il tempo che avrete con loro come lo gestirete e quello che andrete a fare chiaramente il lavalier può e non deve essere soltanto messo esterno il lavalier può anche e soprattutto magari nel cinema o nei casi che non sono televisivi o che non sono contesti in cui serve o comunque è accettato che si veda il microfono esterno il microfono lavalier va occultato perché comunque occultandolo si ha un effetto più credevole anche alla vista evitiamo di vedere questa patacca qui nera in questo caso va bene ma immaginiamo ci fosse un ospite con un vestito con una camicia bianca vedremo subito il lavalier anche se ultimamente li stanno facendo anche bianchi per obbiare però ci sono dei contesti in cui il lavalier deve essere occultato tassativamente chiaramente noi occultando il lavalier andremo a ridurre chiaramente la qualità del nostro suono perché giustamente le alte frequenze verranno tagliate e quindi verrà tutto un po' più assorbito quindi quello che è indispensabile capire è che bisogna addirittura cercare di capire quali indumenti assorbono di più in virtù anche della posizione questo sicuramente ci possono essere oltre questo anche le problematiche di contatto e di rumore che noi abbiamo nascondendo e occultando il lavalier e adesso andremo un po' ad entrarci in questo terreno perché è molto difficile occultare bene un lavalier diciamo che il rumore può definirsi da contatto quindi nel momento in cui il lavalier viene toccato direttamente quindi caso più classico uno gesticolo come sto facendo anche io in questo momento nonostante ne sia consapevole che non dovrebbe essere fatto però mi tocco e capite che anche solo facendo no perché io personalmente vado vedete sto toccando il microfono e quindi si hanno delle perdite di audio importanti dopodiché possono essere rumori da contatto direttamente con la pelle col corpo con altri oggetti quindi qua bisogna cercare di microfonare e magari di bloccare un po' il microfono sotto pelle con del nastro o sugli indumenti stessi per cercare di fermarlo il più possibile di salvaguardarlo il più possibile dopodiché quello che possiamo anche andare a fare è dire questo coordinandoci un po' soprattutto nei cortometraggi negli spot pubblicitari di andare a far capire agli attori e anche al regista o all'operatore o anche a noi stessi di evitare appunto abbracci contatti movimenti particolari nel momento in cui si sta parlando quindi se c'è un abbraccio in scena bisogna far capire che si fa la battuta e poi ci si abbraccia senza pronunciare la battuta perché altrimenti se siamo microfonati solo con lavalier avremo un effetto di questo tipo credo che si sente in cuffia che sta succedendo qualcosa che non va assolutamente bene quindi anche coordinarsi su questo perché il rumore c'è e ci sarà sempre in questo caso se abbiamo un lavalier poi abbiamo i rumori da sfregamento che sono quelli poi proprio direttamente con gli indumenti quindi vedremo nel corso di questo corso come anche nascondere sotto gli indumenti nelle cravate insomma nelle camicie nel sottocolletto però ci possono essere dei rumori da contatto e quindi anche qui bisogna cercare il più possibile di isolare con del nastro adesivo mettendoli in posizione dove non si vadano a muovere troppo gli indumenti fare occhi ai tessuti per evitare che ci siano dei rumori da sfregamento perché altrimenti avremo un risultato assolutamente non professionale poi ovviamente più abbiamo il microfono esposto alle mani come in questo caso più sarà facile che captino questo tipo di situazioni cioè di sfregamento delle mani di gesticolazione se si può utilizzare questo termine quindi fate attenzione anche a queste cose e soprattutto controllate spesso ogni fine take andate a controllare se il microfono è ancora posizionato bene è giusto funziona è acceso dovreste monitorare costantemente però controllate sempre la posizione che non si stia per staccare ecco un'altra cosa che si può fare sicuramente per andare a guardare la vita nel nostro lavaglie è quello di andare a creare un piccolo loop quindi per loop che cosa intendiamo intendiamo di andare a realizzare questo tipo di situazione quindi una specie di occhiello in questo caso come potete vedere poi andiamo a fermare con il nastro adesivo in maniera tale che il microfono non sia soggetto a troppe sollecitazioni quindi che non venga troppo tirato che non si stacchi innanzitutto che non venga giù ma soprattutto che non si rompa questo cavo che vedete è finissimo e delicatissimo all'interno del quale passano tutti i cavi che garantiscono la qualità del suono e quindi è fondamentale creare questo piccolo loop poi ci mettete un attimo ed evitate che ci sono problemi anche di disturbo poi oltre al fatto che comunque il loop evita questo cioè di aver il microfono posizionato con del cavo extra e poi che venga pallottolato messo in tasca no quindi diamo un po' di cavo su in maniera tale da creare il nostro fantastico loop avremo meno cavo e questo cavo potrà essere teso cioè non teso ma potrà non essere aggrovigliato e quindi arrivare bene al ricevitore e questa cosa qui è fondamentale per evitare di danneggiare ulteriormente il nostro lavalier ora andiamo a parlare invece di come poter posizionare e occultare il lavalier allora per occultare il lavalier quindi nelle scene in cui non volete che si veda quindi che non compaia ci sono vari punti in cui possiamo collocarlo sicuramente per esempio nel colletto possiamo occultarlo all'interno del colletto possiamo metterlo poi al centro dei nostri bottoni quindi ovviamente parliamo di una camicia dove possiamo anche farlo uscire da un singolo bottone per farlo invece vedere quindi che sia visibile ma di base nell'asoletta se si crea l'asoletta nel centro della camicia possiamo nasconderlo lì ovviamente scocciandolo poi possiamo metterlo per esempio sotto la camicia quindi direttamente qui sul plesso solare con degli adesivi specifici per microfoni che ci sono e che esistono oppure con addirittura delle strisce delle bande che ci sono elastiche che prendono tutto questo punto in cui possiamo posizionare da una parte la capsula e dall'altra il ricevitore quindi climpandolo sempre per nasconderlo ovviamente poi ci sono per esempio delle altre tecniche come quella di inserirlo nei capelli che è un po' una tecnica più teatrale se vogliamo più da cinema che non è da utilizzare se state facendo un'intervista per esempio perché scompigliate da una persona che anche conoscete e poi ci devono essere delle acconciature particolari tipo i bigodi che permettano di inserirla correttamente però si può nascondere anche nei capelli ovviamente possiamo nascondere il microfono dentro la tasca della camicia quindi nel taschino oppure possiamo addirittura fare un metodo che a me fa molto ridere ma è efficientissimo nella penna quindi si prende una penna big si va a tagliare il tappo si nasconde si svuota e all'interno si mette la capsula geniale questo sistema quindi col taschino e la penna posizionata qui avremo un microfono nascosto ma in realtà pienamente visibile quindi questa cosa è veramente incredibile e quindi questi sono alcuni dei metodi con cui noi possiamo nascondere fisicamente il microfono chiaramente ce ne sono mille ce ne sono tantissime varianti ogni fonico e i suoi segreti questi sono alcuni che io vi porto quelli che abbiamo usato nel corso degli anni eccolo qui quindi l'esempio pratico gli esempi pratici questo per esempio è l'aggancio del microfono tramite la camicia quindi nell'asola nel bordo interno della camicia stiamo usando questo nastro per esigenze di ripresa in modo che si veda meglio e si deve mettere in questo modo ecco quindi il suo Gianluca va a far vedere come si posiziona fa posizionare fa passare tutto il cavo all'interno della camicia per occultarla e poi andiamo a posizionarlo in questo modo qui quindi all'interno del nostro risvoltino si posiziona così e poi si mette bene la camicia e il microfono è completamente occultato ecco quindi il procedimento per come poter nascondere il nostro microfono facciamo passare il cavo quasi come fosse una cravatta e poi andiamo a posizionare il nostro microfono adesso non siamo a favore di camera ma vedete in questo momento si in questa posizione così facendo poi si va ad abbassare il nostro colletto e come potete vedere il microfono sarà perfettamente occultato e quindi non visibile e ora invece parliamo del sistema che più piace a me personalmente perché ci fa sembrare quasi degli 007 ovvero quello di nascondere all'interno di una penna allora qua abbiamo una penna che è stata precedentemente ovviamente svuotata facciamo passare il microfono all'interno della penna stessa eccola qui e poi andiamo a tagliare la parte superiore del tappo senza tagliare ovviamente la capsula quindi andiamo a dargli poco poco in più di spazio per poter far passare il suono quindi in questa posizione ok e quindi come potete vedere abbiamo il microfono occultato in questo modo chiaramente poi dopo averlo posizionato all'interno del taschino bisogna fare in modo che non ci sia troppo difetto con il ricevitore oppure si buca anche la giacca che non sarà questo il caso però poi si può posizionare vedete tutto quanto tutta la matassa in questo modo ed è assolutamente professionale oltre che essere un gioco praticamente simpatico e carino chiaramente il lavaglia può essere montato anche esterno come abbiamo detto quindi oltre a nasconderlo possiamo montarlo anche esterno chiaramente è sempre bene posizionarlo in maniera tale che non crei delle pieghe che non crei dei difetti a livello visivo sui vestiti del nostro soggetto è bene anche raccogliere il cavo con un piccolo cappio a j viene chiamato quindi fare in modo che ci sia se è pinzato magari all'interno della camicia o nel bavolo della giacca questo piccolo cappio che diciamo rende più gradevole alla vista e poi aiuta sempre ad avere meno cavo tirato soprattutto evitare che ci sia un cavo dritto così che poi viene tirato fuori quindi sicuramente utilizzare questo metodo qui e poi la parte diciamo difficile di mettere un microfono a vista è quando abbiamo per esempio delle signore delle donne dove hanno dei vestiti senza tasche perché allora in un uomo è molto più facile mettere il ricevitore di un microfono questo non parliamo di capsula parliamo di ricevitore nel caso di un uomo è molto semplice nascondere il ricevitore perché il ricevitore lo si può mettere nella tasca interna della giacca nella tasca dietro dei pantaloni e siamo tranquilli con delle donne invece che magari hanno dei vestiti hanno degli abiti che non hanno tasche è molto più complicato quindi quello anche perché un uomo si può sbottonare tutta la giacca facilmente li si va a mettere si diventa più ingestibile come una donna no quindi quello che si può fare che cos'è sicuramente prendere quelle cinghie che abbiamo detto della Diviana Straps mi sembra si chiamino che permettono di essere messe qui per quanto riguarda un uomo non si può aprire andiamo a mettere il ricevitore e la capsula per le donne invece la cosa ottimale sarebbe quella di nascondere il ricevitore nel reggiseno quindi pinzarlo dietro nella corda del reggiseno dove si aggancia chiaramente non sempre ce lo faranno fare non sempre è possibile quindi pinziamo il nostro microfono dove riusciamo sul vestito e poi magari cerchiamo di aggrovigliare il nostro cavo e chiediamo a lei se o se lo mette dietro ma è praticamente impossibile oppure nelle mutande o nei leggings questo è l'unico modo che si può fare altrimenti il cavo sarà vista perché chiaramente se ho un vestito lungo un vestito che vada qui fino a qui va bene il microfono lo metto qua ma poi da dove faccio uscire il cavo il ricevitore se lo tiro su e lo metto esterno tiralo sul vestito se no lei ce l'hai in mano quindi la cosa fondamentale è di riguarda piuttosto collegati tu nelle mutande nell'elastico delle mutande perché è una cosa a cui lei è più facile che riesca ad accedere rispetto a dietro collegati lì il ricevitore ecco adesso quindi una prova su come possiamo microfonare il nostro soggetto in questo caso sempre Beppe con una giacca innanzitutto ci approcciamo a lui vedete andiamo subito a posizionare all'interno il nostro ricevitore ok dopodiché andiamo a creare il nostro fantastico loop quindi avvolgiamo il cavo in maniera tale che non sia troppo teso e non ci siano problemi di cavo e quindi di situazioni che possono attirare il microfono e infine andiamo a clippare il nostro microfono chiaramente ogni microfono ha una clip che come si può dire è irreversibile quindi noi possiamo cambiare lato e direzione del microfono per metterlo sia a destra che a sinistra in maniera assolutamente speculare quindi per effettuare il J in maniera pratica come funziona funziona in questo modo non vogliamo il cavo tirato brutto in questo modo che esce dalla giacca quindi creiamo questo occhiello che quindi ci permette di avere anche visivamente presentativamente un microfono posizionato e visivo in una maniera molto più bella ok adesso andiamo a vedere come posizionare il microfono su una cravatta perché la cravatta è un elemento assolutamente centrale quindi il nostro Gianluca va a posizionare il microfono sopra la cravatta sei sicuro che sia tutto a posto esegui sempre la J in maniera tale da avere un qualcosa di visivamente gradevole eccolo qui e abbiamo microfonato il nostro Beppe col microfono esterno sulla cravatta ma può anche essere microfonato interno alla cravatta quindi che non si veda come si fa in questo modo quindi togliamo sempre il microfono andiamo a rimuovere la nostra capsula quindi andiamo a rimuovere l'antivento in maniera tale da avere un microfono più snello un microfono più potete vedere simile a quello che è un cavo e andiamo ad applicare il nostro pezzo di scotch in generale chiamato Pimot e andiamo a posizionarlo vedete all'interno del nodo stesso facendo in modo che aderisca nella maniera più precisa possibile e poi andiamo ad occultare il cavo sempre o all'interno del colletto stesso oppure lo facciamo passare all'interno della camicia facciamo un altro punto relativo all'antivento perché ovviamente i microfoni lavallie soffrono un po' il vento perché giustamente noi non abbiamo nulla sopra il nostro lavallie abbiamo in realtà una piccola spugna perché se noi svitiamo il nostro lavallie abbiamo sotto proprio solo la capsula mentre invece abbiamo di base già abituto sopra un filtro di spugna in esterno se c'è vento soffrirà parecchio si può mettere l'antivento quello piccolino sì però chiaramente è invisibile cioè se abbiamo soprattutto se è di colore grigio chiaramente sembrerà un insetto un topo un qualcosa quindi l'antivento nella lavallie è da considerare che a un certo punto in esterna comunque sempre meglio utilizzare il boom con l'antivento e con tutto quanto però si può utilizzare anche l'antivento per i lavallie però sappiate che crea diciamo è molto visibile quindi deve essere un contesto di video nel quale ci stai coerente che sia visibile ragazzi il video finisce qui vi ricordo che questo è un estratto di un videocorso molto più ampio che abbiamo pubblicato sull'audio dove trattiamo tantissimi argomenti sulla presa diretta su come essere un vero fonico per i vostri video su youtube quindi se vi è mancata qualche informazione oppure ritenete di voler approfondire ancora di più alcuni argomenti qui sotto trovate il link per trovare il videocorso completo io vi ringrazio tanto ragazzi ricordatevi iscrivetevi al canale mettete un like fateci vedere che questi video sono interessanti e vi piacciono e ci vediamo